e pura vita ragazzi benvenuti nuovamente su Capitan Tsuvasa Rise of New Champion continuiamo dove l'abbiamo lasciato nell'ultimo capitolo ragazzi dove toccava la partita contro il Furano mi sono portato avanti per arrivare direttamente qui perché vorrei direttamente cercare di fare due partite a video e spero vi stia facendo la serie ragazzi come vi dico sempre mi raccomando iscrivetevi al canale commentate e tutte le altre cose che già sapete vi posso condividere e iscrivervi se non l'ho già detto lo stadio di Saitama eccola Pancho pronto zitto papi siete nessuno per me per me nessuno papi tiro del falcone che l'abbiamo sbloccato nell'ultimo episodio adesso iniziamo a fare le cose serie vai iniziamo a giocare come squadra invece di fare il single player anche se no lì sei fuori gioco papi dove vai ragazzi piuttosto di che mi togliono il pallone ragazzi tiriamo a merda non ho potenza non ho potenza sono stanco tiro da qua vai entra adesso cambia tutto eh adesso con un tiro serio cambia tutto ragazzi obiettivamente eh facciamoli giocare con le palle con la palla che tanto non cambia niente titanio vamos mi sfido mi ha inculato ho perso la sfida dai sei stronzo però eh recupera ascoltami da che squadra sei tu titanio vai l'unica cosa che può fare gol qua è papà vale oh vecchio chi sei tu sei un random e ho giocattori che hanno voglia di giocare no corri no prendi prendilo vabbè ma allora capo dai e se sei lento a caricare è senza stamina il portiere il prossimo entra bacca boia cos'è sto auto aim oi entra eccola lì mamma mia adesso stiamo diventando dei campioni dei bestie occhio cacciano la zona B corri aia ogni tanto ho il dubbio se siamo veramente in undici che cosa fai pancito pancito vai entra mi ha ucciso ma va bene lo stesso ok ce l'abbiamo fatta ok è entrato misugi quindi adesso siamo più forti di prima abbiamo il boost adesso del capitano o no leva capitano sono io ho fatto quello che non dovevo fare accelerare ma lei ma allora hai rotto il cazzo vieni qua tiro non c'eri non è vero cazzo ok stiamo andando alla grande ragazzi stiamo andando bene non l'ha fatto eh ma adesso zona B e gliene mettiamo due nel culo eccolo da qua gol neanche vista papà neanche vista ragazzi basta basta ma che cazzo facciamo basta sempre alzati ma scusa un attimo per forza non tiri da fuori dall'area vai ma ma non aveva fatto niente allo spirito adesso vediamo adesso vediamo se è vero bastardo mangia ah ecco ah ecco silenzio eh ho detto io entra cazzo cazzo fai ragazzi perché non l'hai passata stronzo adesso adesso si eh e vado dentro perché siete stronzi bravo arriveder ANdatt l'accom o con canal e cazzo ne cazzo fai cazzo cazzo e cazzo 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 Vai Pancho, fatti rispettare, fatti rispettare, ci arrivo, ci arrivo, ci arrivo, ultimo, ultimo tiro, da fuori dall'area, vai dentro, ma va là nella vita, non male comunque dai 4 a 0 pulito 4, 2 gol noi, 2 gol Misugi, va benissimo dai, accetto, dribbling e tiri va benissimo, quanta aumenta? Bene, la squadra va su con calma Slice Shot, Desperate Sliding, potenza orgogliosa, basta, passive Stagli sta banca, il cuore Sto bene, non è vero Ovviamente Invece è messo male Stai bene Scotti No, no, no Non posso arrendermi adesso, io ne salterei una, però Magari non gioca questa e gioca l'ultima Eccolo E' svenuto qua, è finita Misugi svenne dello spogliatoio dello stadio e fu portato di corsa in ospedale E non gioca no, sta bene Al cuore molto debo, il dottore dice che è colpa dello sforzo, di ciò che temevo Però ha detto che se resti in ospedale per un po' riprendere le forze potrebbe anche riuscire a giocare la finale del torneo Non potremo contare sulla sua abilità Vabbè, gli facciamo il culo Credo che sia meglio tornare a scuola, se restiamo qui saremo solo d'impiccio Restando qui daremo soltanto fastidio, esatto La lascio nelle tue mani, ok? Dove sono tutti quanti? Non deprimerti E' giustamente in fase triste, no? E' proprio come l'altra volta Ci c'è Pancio, papi, tranquillo E' pancito, è pancito Ci pensa Pancio, tu tranquillo Cosa hanno visto? Non c'era partita Beh, anche noi saremmo migliorati Noi siamo dei dilettanti Ma sentitevi, siete patetici Dove è finito il coraggio che ammiravo? Pagliacci Eh, dai Tutti che si pennono il braccio Che la facciamo, ce la facciamo C'è Pancio in attacco La sua rivincita contro Tsubasa Ultime due partite ragazzi E si va in nazionale Al lavoro, dai Saremo noi la forza di Misumi Noi, io Capito qualcosa? Ma no 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 Qualcosa nello stile del gioco del Toho Yuga in attacco Yuga in attacco Non abbiamo paura di quel tiro Forse ci sono Esatto È una táctica Non abbiamo una casa Non abbiamo una casa ragazzi No mi sa Serve a un cazzo Dovete passare il pallone a me Passate la me Me toco qua Ecco loli Ne ha anche vista Ok Vabbè ma se me la parano Che senso ha Ciao C'eri quasi pancio Che peccato No no io ho il mio tiro Lasciate usarmi il mio Voi tranquilli Vai a tiro di mierda No 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 Okay Orca No non Solo C'è 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 Di C'è 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 S'è C'è C'è Cioè questo vuole bloccarlo con la faccia Ma è interessante teoria Non ci basiamo sulla voce Ci basiamo su quello che c'è scritto ragazzi Cerchiamo di velocizzare un attimo Quello che dicono Perché ci stiamo mettendo un'ora Per due cazzate che ce ne fregano un po' poco Sei stanco? Sto bene anzi sto alla grande No Cazzo vuoi da me Cazzo volete da me ragazzi? Sono lo schiavetto io Sentite questi Risolutezza disperata Bella Ok Vediamo se impariamo qualcosa di interessante Questo voglio Certo E non importa io Golang Mi sembra Hai visto Sei buonissimo Mi sembra Soprino Proprio Mi sembra Mi sembra Ti stai adesso è un mierdas l'evento missione è finita imparo questa? spero di sì ora ti insegnerò oggi ti insegnerò la mia finta speciale eccola vai troppo lento riprova adesso te la faccio tutta ma devi essere più veloce ancora una volta eccola ole dribbling rotante questa è importantissima questa è importantissima evento extra te d'orzo ma cosa serve sta roba? no no grazie Ah 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 Ok ragazzi ci siamo è arrivato quel momento ma prima è ora di migliorare il giocatore perché abbiamo tecniche. Allora colpo del proiettivo non abbiamo niente che sia meglio di questo però il dribbling rotante BBB back road. Ma sarà sempre meglio perché sono tre cose insieme passaggio lungo vabbè tiro combinato non ne abbiamo so high speed shoulder charge e abilità vediamo se abbiamo qualcosa di meglio potenza orgogliosa aumenta la potenza. Ce l'abbiamo scusiamola mettiamola qua abilità di capitano non ne abbiamo presumo ok allora abbiamo detto facciamo così giusto per averne 60. Influenzano aspetti come il tiro rapidità di movimento e la velocità di caricamento della barra io otterrei velocità 70 cerchere di andare sul 70 anche con la velocità. E magari appena si può aumentarsi anche la difesa un pochino. Bene siamo quasi pronti ragazzi ma adesso ovviamente andiamo subito a farlo e certe conversazioni ragazzi le taglio perché non c'entrano un po' un cazzo io direi che quelli interessanti sono più magari quelli del mondiale. Vinciamo per Misugi. Voi essere il capitano e io il capitano no. Volevo essere io il capitano. Eccoli. Volevo essere il capitano. Adesso ci sono io ragazzino. Dai state zitti. Ci sono io che non c'ero prima. Mettere in gabbia il tigre. Stai zitto. Se riesci a tirare. Se riesci a tirare ragazzo. Tiri S più. Come il solito ci dividiamo la squadra qua in modo che ci diano. Fanno schifo tutte eh. Questa. Ci cambiamo davanti che è una roba che sarebbe bene. Mi piacerebbe tanto poterla fissare come cosa. Non posso. E sono blu. Non ci credo. Non posso. Questa sarà una partita di merda ragazzi. Allora sarà veramente una partita del cazzo se siamo sopra in banda. Speriamo di farci qualcosa. Troviamo il modo di segnare come sia possibile. Alzati Panjo. Perchè? Yuga togliti. Tiro. Vamos. Sarà un casino far di gola questo. Cazzo quante bestemmie. Ce la faremo. Non ho paura di lui. No lo va. Vasta. Vieni il giusto. Vai. Viviamo la martellare. Vai. 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 bisogna martellare qua mancito ragazzi ragazzi non vale sapevo ma da qua non passi da qua non passi ti ho detto dai bisogna pressarlo a pressione vai a pressione martello pneumatico ok 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 adesso cade pancito no non è vero un cazzo ma ok toma ce la facciamo ragazzi eccolo per te mangia entra entra mamma mia no 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 non ci provare neanche anch'io ce l'ho sai ok ho detto che adesso entra ma adesso entra vai non la puoi bloccare potentissimo li sono ballati tutti cazzo e non ho finito cosa fai? sì levati dal cazzo e vabbè c'è un'ora ci metti non marchi che cazzo ovviamente dove vai là in fondo tu scivolo io non c'hai più energia voglio vedere dove vai ragazzi per favore ce la facciamo sembra sono tutti in difesa sono no io lo da qua io fanculo devo stancarlo stancarlo sto portiere di merda sì buongiorno eh ma perché? chiuga ti stanchi eh? da qua a là ti stanchi te lo dico io ma perché sti passaggi di merda? adesso è quando? levati dalle palle vai vai prendi lo vai tutti te li sto tirando cioè non va dentro nulla come ti odio guarda vai entra 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 certo che entra coi grande eh e a piangere e a piangere da un'altra parte qualcuno da davanti? grazie che passaggio di merda che hai appena fatto vergognati ovviamente un'ora ovviamente un'ora c'ho gente random in squadra che non c'ha neanche le abilità per tirare c'è oh pancio niente eh eh vabbè ma caricalo però cosa ci vuole? ma vuoi fare? l'importante è stancarlo ok ok non lo so non lo so sai alzati però capo vabbè basta però alzati alzati ascoltami hai rotti coglioni prendi entra entra vabbè 2 a 0 pulita portiere del cazzo mi ha fatto sudare due tiri 18 tiri in porta dove due gol del cazzo abbiamo fatto vabbè un grado più bonus unico tentativo dovremo avere un po' di punti adesso perfetto 350 punti che ci verranno attaccante collaborativo aumenta l'attivazione degli eventi extra celebre mi piace eventi extra sono molto comodi vediamo cosa impariamo fake kick tiro della tigre bene ce l'avevo già attacco orgoglioso precision shot non lo voglio cecchino può essere interessante cecchino abbiamo vinto che fortissimi ragazzi abbiamo messo anche il culo in questa partita a giocare già come un capitano sono un capitano ok ok va bene non ci interessa ma ok accettiamolo ma non 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 mi non non grazie a pancito sempre tanto voi non venite nessuno di voi viene vengo solo io e lui vengo solo e lui è per me per me per me per me per me e lui e Esattamente Tutti che si prendono il lato Vai 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 Forse impariamo No ancora no credo C'è un ospite per te Ciao Sono io sono io Insegnamelo Dimmi 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 Ok Ok Prossimo avremo il suo tiro Voglio mostrarti la mia perseveranza Guarda Toma Era un tiro della tigre perfetto Ci sei riuscito veramente Hai la stoffa del campione Ti aspetterò in nazionale Bene E stesso Mierda Grazie a tutti facci vedere facci vedere bello questo ok ragazzi allora prima di fare qualunque cosa che tanto la finale la giocheremo nel prossimo video vediamo le tecniche perché adesso abbiamo questo questo però è un tiro del falcone utilizzabile come un falcone volley shoot al volo dopo un passaggio lungo quindi io direi che tiro della tigre AA contro BS quindi AA tiri al volo super tiri ovviamente niente abbiamo delle abilità nuove cecchino cannone da reddizione di potenza celebre aumenta di attivazione di eventi extra questa è interessante la metteremo potenza danni allo spirito la potenza di tiri diretti di questa questa è per farmare punti vabbè possiamo restare così tecniche abbiamo visto che siamo a posto aspetta poi abbiamo 400 punti quindi direi che 70 40 in velocità e qualche punto in tecnica il resto in potenza questo ce lo rende un cannone d'attacco perché non facciamo altro noi non difendiamo ragazzi quindi lasciamo l'episodio qua ragazzi nel prossimo ci sfideremo contro Oliver finalmente contro Olli e Benji perché ci sono tutti e due in teoria nella squadra se non ricordo male che sarà la finale che poi aprirà le porte a andare ai mondiali che sarà molto più divertente ragazzi perché effettivamente come state vedendo queste partite sono un po' più noiose perché non ci abbiamo tutti gli attacchi tutti i tiri fighi tutte le combinazioni che possiamo fare con tutti i personaggi perché non ci sono quando giocheremo col Giappone quindi useremo il Giappone quindi andremo in nazionale tutti i personaggi fighi saranno in squadra con noi quindi vedrete che sarà molto più dinamica non sarò solo io che tira ci sarà Oliver che tira e Hyuga che tira e sarà molto più dinamico quindi vedrete che sarà molto più divertente fatemi sapere cosa ne pensate e pensate della serie ragazzi nel momento vedetevi un bacione un pura vida voi nel momento iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio ragazzi ciao ciao